Sapete qual è la frase che più non sopporto quando un sindaco viene eletto? Sarò il sindaco di tutti. Ma quando mai? Il movimento non deve essere il movimento di tutti. Ci sono persone che non devono entrare nel movimento. Ci sono cittadini che non devono votarci. Io non li voglio i voti degli approfittatori, dei complici del sistema, di chi sa solo lamentarsi. Questo non ci porterà al governo, a parte il fatto che non ci credo affatto. Anzi, considero l'intransigenza un valore e la sola strada per arrivare a governare il paese. Tuttavia credo, e ve lo dico dichiarandovi che mi spenderò al massimo per vincere le prossime elezioni, credo che andare al governo non è il fine del Movimento 5 Stelle, ma un mezzo per ottenere l'unico nostro obiettivo, cambiare radicalmente la società, questa società.